Ho detto io, ho detto, allora io ti ho detto i femminelli sono più tranquilli, più belli, più belli. Io non ve lo dico, non ve lo so dire in calabrese, però è vero che le femminelle sono molto dolci e lei, che è la sollevina di punto, che si chiama Virgola, è molto molto tenera, guarda bello, anche lei guarda bello. Va bene, lo sappia com'è fatto bello, allora io la metto qui al centro. Tanto abbiamo un inquadratura lunga, vero? Si vede meglio la pancia anche in lei. Lei è la sorella di punto, anche se non è credibile, è la sorella di punto ed è una di quei bimbi che trovammo nella scatola. Nella cassetta gialla, cerchiamo di essere precisi. Ok, davanti al rifugio, la storia l'ha già raccontata ieri Toni e quindi inutile ripeterla, l'abbiamo raccontata tante volte. Sono diventati grandissimi e non so come sia possibile, che sono cresciti così tanto perché le abbiamo trovati da, secondo me era dopo l'estate, secondo me era autunno. Secondo me era passata già l'estate e quindi è proprio poco che l'abbiamo trovati. E non si capisce come vai, erano in cinque, stavano nella famosa cassettina gialla e adesso invece non ce n'entra neanche uno nella cassettina gialla. Perché sono gigantesche, a parte la pancetta della ciccia, sono cresciuti tantissimo. Verranno dei bei cagnoloni e questo lo dimostra anche, ce lo fa pensare anche la dimensione delle sue patte, perché le sue pattone sono grandi. Non sono rigate, striate come quelle del suo fratello, ma lei è molto più dolce del fratello. E in questa cucciolata ce n'è per tutti i gusti, ce n'è di neri e ce n'è di bianchi. Quindi se voi volete dei cagnoloni dolcissimi, perché loro sono veramente dolcissimi, l'Italia è meglio grande, molto giovane. Che ormai sono stati vaccinati e sono pronti per partire, potete scegliere, a vostro piacimento, i chiari o i chiari. Io vi sto presentando, virgola, dolcissima, avrà circa quattro mesi, ma anche secondo me ne ha tre e mezzo, perché dalla dimensione sembra molto grande. Ma se andiamo a vedere i dentini, vedi che sono ancora tutti dei piccolini? È proprio una bimbetta, quindi, oh scusa, con questo telefono verticale non siamo molto bravi. Ma impareremo, però faremo i video orizzontali quando dobbiamo fare dei video che mostrano uno spazio grande, descritti. Dicevo che questa piccola, questa cagnolona avrà sicuramente bisogno di uno spazio esterno e anche però di uno spazio in casa, di un accesso in casa, di molta dolcezza e di molte coccole e di qualcuno che possa amarla. Quindi chiamate per questa bellezza, chiamate per virgola, dolcissima e bellissima e presto vi presenteremo anche i fratelli. Sei pronta per partire? Perché si mette quella faccia? Perché fa la faccia da vittima? Allora, vedi, loro sono dei bimbi, lo vogliono abbracciati. Dovete tenere presente che questi bimbi qua ce li siamo cresciuti noi, perché quando li abbiamo presi erano piccolissimi e loro sono abituati a essere coccolati ed abbracciati. E sono convinti che noi siamo un po' i loro genitori, tutti Ninetta questo, ma anche loro. E quindi si comportano così, come dei bambini. Gli abbiamo dato un po' di imprinting. Allora, chiamate per questa meraviglia. E condividete, perché guardate, loro se riescono a passare i primi 4-5 mesi saranno adottati, poi nessuno li verrà più, si dimenticheranno di loro, li vedono grandi e non capiscono l'amore che hanno e il calore che possono dare, e tante cose che possono dare loro, che sicuramente noi ci sogniamo. Ah, questo è poco ma sicuro. L'amore, la riconoscenza, la dolcezza. Ok, ciao, bella, ciao. Ma il video è il mio, devo dire io ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, sei confuso. Ok. È dal telefono verticale, sta guardando. Che che stai guardando? Ma non so che anche non ti vedo neanche. No, 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 infatti, guarda, bruttissima questa cosa. Per adesso. Comunque, ciao, non dico io. Anzi, lo dice lei. Forza, amore. Ciao, ciao, io aspetto la mia mamma. Ciao a tutti da questa, quanto sono bella, mi chiamo Virgola. Ciao. Ciao Virgola. Lei dice questi sono matti, quanto vuoi sapere? Questi sono matti secondo me.